A Mirko e soprattutto anche al figlio Lorenzo la mamma manca e manca la moglie, questo è evidente. La famiglia di Guerrina Piscaglia, il figlio Lorenzo ed il marito Mirko e Alessandrini sono pronti a chiedere un maxirisarcimento alla chiesa dopo che padre Graziano è stato condannato in via definitiva a 25 anni di reclusione per l'omicidio della casalinga. È stata la diocesi che ha incaricato i frati e li ha mandati a Caraffaello e di conseguenza, siccome secondo noi padre Graziano ha commesso il reato durante l'esercizio delle sue funzioni spirituali, perché un prete svolge sempre le funzioni spirituali, quantomeno ce l'ha detto lui che incontrava Guerrina Piscaglia solo per questi motivi, ha commesso il reato e di conseguenza, secondo il codice civile, ne è responsabile la diocesi. Al momento la richiesta non indica una cifra, ma potrebbe comunque sfiorare il milione di euro. Guerrina Piscaglia scomparve nel nulla da Caraffaello, località dell'Appennino e Aretino, il primo maggio 2014, all'epoca padre Graziano era il vice parroco. Il frate congolese si trova nel carcere di Re Bibbia, non ha mai confessato il delitto e continua a professarsi innocente. Noi abbiamo solamente inviato una lettera di richiesta di risarcimento del danno, quando faremo la causa, quindi tra qualche giorno, tra qualche mese, perché dobbiamo lavorarci, quantificheremo il danno. Domani saranno cinque anni dalla scomparsa della donna. Quello che hanno sempre fatto è perlomeno ci dica dov'è per poter piangere un corpo. Certo, ma io credo che lui non lo dirà mai.